durante incontri in presenza sincroni va bene online come ieri avevo 60 persone imparare a usare la chat imparare a usare la chat per cogliere le osservazioni e integrare va bene correggere adattare focalizzare il flusso del mio discorso questa è una cosa che funziona meglio online che in presenza perché che uno studente alzi la mano per fare l'osservazione è molto più difficile mentre l'osservazione chat la fa con notevole facilità se si impara a gestire un po questa cosa la lezione diventa più dialogica e alla fine si riesce a focalizzare meglio a portarla più vicino al contesto degli studenti